Una buona giornata a tutti, cari amici, c'è tanto di cui parlare, perché oggi è arrivata la terza posizione di Marta Bassino, il gigante di Plan de Corones, un altro grande piazzamento di Marta che sembrava peraltro disperato, dopo un settimo posto dopo la prima match e soprattutto dopo una Michelle Gisin che stava per vincerla questa gara e poi ha commesso un errore nel finale. Il finale di pista ha lasciato appunto la scena a Tessa Worlet, prima è tornata a vincere la Francia del 32esimo podio nella sua carriera in gigante, secondo la Ragut è appunto terza, la nostra Marta Bassino che ha guadagnato punti preziosi su Petra Vlova in ottica classifica generale. Ma non siamo qui per parlare di questo perché negli ultimi giorni è uscita una notizia, forse è passata anche un po' sotto traccia, che ancora non avevamo commentato, ossia il cambiamento del capitano in Coppa Davis per l'Italia, perché si chiude un'era comunque penso positiva per Corrado Barazzutti per quanto riguarda la scuola maschile dopo che si era già chiusa quella al femminile. Che cosa possiamo imputare a Corrado in questi anni? Sicuramente la professionalità, la buona volontà, la grande dedizione che ha avuto non può passare in secondo piano. E' anche vero che in tante situazioni insomma un po' di coraggio in più, magari un po' di spavalderia in più per osare magari di mettere qualche giovane, qualche rischietto in più ogni tanto sicuramente se lo poteva concedere. Penso un po' anche a quella sconfitta a Genova contro la Francia, qualche annetto fa dove c'era un Marco Cecchinato che era in buonissima condizione sulla terra battuta, come anche Steso Travaglia, Berrettini che era in rampa di lancio, fu schierato Seppi accanto a Fognini, magari anche lì si poteva fare una scelta diversa, ma a posteriori insomma è difficile, soprattutto perché mi ricordo quella volta Andreas veniva anche da un'infiltrazione all'anca, quindi di conseguenza sappiamo che c'è sempre il tempo di recupero che è canonico per l'Alto Atesino, dopo qualsiasi infiltrazione appunto si faccia all'anca, sì un po' più di spavalderia a volte sì, perché a volte è sembrato diciamo basarsi sui risultati e soprattutto sul ranking, sulla classifica e non andare un po' oltre a quello, ecco qualche volta sicuramente avrebbe potuto lanciare qualche giovane in più. Penso che un po' più di coraggio ce la possa avere Filippo Volandri, perché Filippo Volandri intanto è uno che merita di prendersi comunque il comando della Coppa Davis, il comando della scuola maschile, per il semplice fatto che per me è la persona giusta anche per assecondare un po' e per legare bene con questi giocatori, perché insomma sappiamo tutti che Filippo comunque è uno che si è costruito da solo, è uno che come professionalità non è secondo a nessuno, cioè arrivare nei primi 20 del mondo, oppure no, 23-24 del mondo mi sembra, con la sua tecnica, giocando praticamente solo su terra battuta, non andando oltre e avendo uno stile di gioco veramente incredibile per il tempo, cioè lui avendo un solo tipo di risposta di rovescio, non avendo grandissime armi tecniche a disposizione, ha fatto una signora carriera regalandosi anche degli exploit come quello contro Federer a Roma, come quella semifinale a Roma, le sue soddisfazioni sono tolte veramente grazie a un lavoro lungo, lungo, anni e anni, e Pippo insomma poi è rimasto anche dentro il mondo del tennis, l'abbiamo visto insomma recentemente, poi essere entrato anche a Sky come commentatorio, comunque insomma è uno che assolutamente sa il fatto suo, proprio per competenza, per mezzi, anche per carisma, come trasmettere appunto il messaggio ai suoi ex colleghi, diciamo, come carisma sì, è assimilabile un po' a un Paolino Lorenzi, insomma è un grande lavoratore, è una persona molto molto seria, quindi da questo punto di vista ne possiamo star certi, speriamo appunto faccia le scelte giuste, le scelte giuste per rilanciare e per lanciare anche, e per prendersi qualche rischio ogni tanto, anche se francamente insomma, sappiamo che adesso la competizione che c'è adesso non equivale affatto alla Coppa Davis, è una competizione che seguirò in maniera molto distratta, quando ci sarà, sì è una competizione in cui c'è l'Italia, è una competizione in cui gioca l'Italia, ma francamente insomma, il rispetto alla tradizione della Coppa Davis, non ha niente a che vedere, la seguirò in maniera molto distratta, questa porcheria in salsa spagnola, in salsa madrilegna, architettata dal buon Pichet, francamente insomma il primo è stato un fiasco, vedremo il secondo però, diciamo quest'anno, anzi l'anno scorso nel 2020, il Covid che ci abbia privato delle finali di Coppa Davis, non mi ha affatto dispiaciuto, uno dei pochi lati positivi del Covid è probabilmente che mi ha tolto quella porcheria, a fine anno appunto spererei di ritornare a una cosa più normale, che rispecchi un po' la tradizione della Coppa Davis, o comunque una cosa che abbia un minimo di razionalità, che per esempio giocare a Tpk è qualcosa di diverso, strutturata meglio, ma oppure andrei ad architettare un vero e proprio mondiale di tennis, andando a restituire magari anche la vecchia Coppa Davis, perché no, nel suo formato tradizionale, e organizzare ogni 4 anni un mondiale a squadre, che si gioca in 15 giorni come uno slam di tennis, magari lo fai a livello quadriennale o biennale, e potresti fare per esempio un mondiale ogni 4 anni, negli altri 3 anni in cui non c'è il mondiale, fai la Coppa Davis come c'era prima durante tutta la stagione, non mi sembrerebbe un problema, assolutamente, perché si permetterebbe l'evento singolo comunque di avere il calore del pubblico, perché come mondiale di calcio, scegli una sede e poi tutti i tifosi possono raggiungere quella sede, e negli altri 3 anni avresti la Coppa Davis, comunque tradizionale come sempre, con tutto il tifo, con tutto il calore del pubblico, che potrebbe essere e potrebbe diventare anche una competizione, che può spronare dei giovani a mettersi in mostra, come anche stava facendo negli ultimi anni, magari non c'erano i big, non c'era il grande nome, ma i giovani non mancavano mai, comunque anche di nazionali meno altisonanti, era una competizione che ti permetteva anche di conoscere volti nuovi, ecco, questo sicuramente mi sento di dirlo. Appunto, il capitano di Coppa Davis comunque non comincerà la sua, Filippo Volangi non comincerà la sua esperienza adesso dall'Australia, poiché il capitano dell'ATP Cup sarà il coach del numero 1 del seeding, di ciascuna nazionale, di conseguenza il coach di Matteo Berrettini, Vincenzo Santopadre sarà il capitano dell'Italia, come l'anno scorso se non sbagli è stato Giraudo per Fabio Fondini. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, perché la stagione sta per ricominciare, dopo questa quarantena australiana tanto discussa, con tanti problemi, peraltro c'è chi non l'ha fatta a Melbourne nella quarantena, c'è chi l'ha fatta ad Adelaide, vedessi anche i Big 3, e Yannick Sinner, visto che si allenava con Rafa Nadal, giocheranno un'esibizione, nella notte fra giovedì e venerdì, ci sarà peraltro alle 3 di notte, se non sbaglio, dopo la partita tra Novak Djokovic, e Yannick Sinner, per vedere per la prima volta nella stagione, Yannick in campo, in una sfida amichevole, però sicuramente affascinante, e poi vedremo chiaramente gli altri italiani, Berrettini, Fognini impegnati nell'ATP Cup, ci saranno anche i tornei di preparazione agli Australian Open, i due ATP di Melbourne, oltre che ai tre tornei femminili, e poi ovviamente saranno spalancate dall'8 febbraio, le porte all'Australian Open, e a questo punto, arrivederci a casa nel prossimo video.